Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 68 si registrano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, a causa di lavori invece rallentamenti tra Ulle e Pontremoli in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipilì, anche qui a causa di un incidente si segnalano rallentamenti tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione e Mare. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Vezzano-Rigoli. Con vogli percorrenti la linea tirrenica potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!